E bella che stiamo andando in questo nuovissimo video per parlare dei sorteggi, domani farò domani o massimo entro un mese comunque arriverà un video su il recap un po' di come è andato il mercato, ci sono state delle cose che sono successe nelle ultime ore molto particolari Comunque quello che volevo appunto andare un po' a commentare è del sorteggio che quest'anno è cambiata tutta la cosa, credo che poi non so a gennaio come funziona per la cosa perché mi sa che c'è a febbraio scusate perché poi a febbraio ci saranno i spareggi, tipo nona, vabbè non vi spiego praticamente, ci sono 36 squadre, un girone unico, ognuna sfida 2 per fascia, quindi 8 partiti, 4 in casa e 4 fuori casa E poi ci sono, no e poi dopo chi arriva dalla 1 alla 8 fa il, cioè va appunto a fare gli ottavi direttamente, quindi per un mese tipo non gioca l'Europa League, no forse per noi siamo un mese e mezzo tipo, mentre chi no si troverà a giocare l'Europa League a febbraio, che sono diciamo quelli che prima erano i sedicesimi Che poi sono diventati, cioè prima erano i sedicesimi, poi sono diventati degli spareggi che praticamente chi arrivava secondo nel girone in Europa League e in Conference perché in Champions era diverso Andava a fare questo turno in più e poi dopo c'erano gli ottavi, quarti, semifinale, finale Quest'anno praticamente è lo stesso, solo che è la stessa più o meno cosa, cioè semplicemente quindi quelli che sono arrivati, però mentre l'anno scorso era, chi arriva secondo nel girone Va a scontrarsi contro quelle che sono arrivate terze nella competizione superiore Quest'anno è, chi è arrivato dal nono al venticinquesimo posto va a giocarsi questo spareggio barra sedicesimo E chi invece non ce l'ha fatta, è arrivato dal venticinquesimo al trenticesimo posto va a casa Io non sono più le retrocessioni da Champions, Europa League ed Europa League a Conference Che in realtà per qualche squadra potrebbe essere anche un male perché per dire delle squadre potevano farsi il ragionamento gli anni scorsi Di dire, cioè arrivo terza perché nel mio girone posso luttarmela più con la quarta e magari provare ad arrivare seconda Ma è difficile e con la prima non ci provo proprio e poi magari in Europa League ci sono squadre un pochino più basse di livello Oppure in Conference, se guardiamo l'Europa League o la Champions E magari posso provare a vincermi quella competizione sotto Infatti mi ricordo una delle ultime che l'ho fatto, no forse stato pure il Sevilla era sceso Il Sevilla e poi la Telecomadrid l'aveva fatto ancora l'anno prima E se l'hanno prima, nel 2018 quando ho perso contro di noi i gironi che arrivò terzo Il ciascuno e noi primi nella stagione 17-18 Loro andarono in Europa League e vinsero l'Europa League Ma diverse squadre l'hanno fatto, pure la stessa Sevilla l'ha fatto più volte Quindi comunque è una situazione che si poteva fare prima Adesso non si potrà più fare quindi non ci sono scuse La Roma comunque con le squadre che ha beccato che sono Francoforte, Tottenham, Braga, Atatalkmar Dinamo Kiev, Union San Gilberto, Atletic Bilbao che è qui chiamata Atletic Club E Elfborg che ha Tottenham, Atletic Alkmar, Union San Gilberto, Elfborg, Away E invece Francoforte, Braga, Dinamo Kiev e Atletic Bilbao invece si giocano in casa nostra Che è ottima come cosa perché comunque Braga, anche la stessa Dinamo Kiev Però non so loro dove giocano perché non si può giocare in Ucraina E lo stesso Atletic Club, giocare in casa loro è una cosa veramente tostissima Invece giocare in casa nostra sarà un pochino meglio Se giochiamo come sappiamo l'unica che temiamo, l'unica che possiamo temere L'abbiamo fatto almeno nella seconda parte dell'anno scorso è il Tottenham Se invece giochiamo come stiamo giocando in queste prime partite o alcune volte l'anno scorso E sempre con Muginio Allora rischiamo di arrivare neanche a giocarci i playoff per la Roma sono abbastanza scontati Perché non credo che Dinamo Kiev e Elfborg non ci fanno almeno 6 punti con loro Con, non lo so, sto dicendo tipo Francoforte potersi pareggiarci Che altro è? Atletic Club potersi pareggiarci e già 6-8 punti Bragad, Dalkmar Cioè secondo me pure lì puoi vincere o pareggiare massimo Dinamo Kiev, Unionsangelo, Elfborg, ripeto, si può vincere, ripeto E pur Unionsangelo, anche se è difficile, però si può vincere Quindi se tu fai 3 vittorie e poi tipo 3 pareggi Quindi fai 12 punti, secondo me con 12 punti almeno ai playoff ci arrivi Se la Roma riesce a fare diciamo 18 punti che ne perde 3 e vince tutte le altre Allora, no, che dico 3, no, ne perde 2 e vince tutte le altre Allora secondo me potrebbe anche trovarsi tra le prime 8 Ecco, diciamo che quelle da temere appunto sono il Tottenham, lo United, il Porto E qualche altra diciamo, sono queste quali le principali Che creano molti problemi Quindi vediamo un po', la Roma deve lottare perché può andare avanti Certo, l'Atletic Bilbao non è buona come cosa Perché comunque se dovessero tenere Nico Williams Poi c'erano pure Gnacki Williams, hanno comunque qualche giocatore interessante E forte comunque, secondo me, sono pure tosti Ripeto, quindi con Tottenham puoi perdere Con Francoforte e Atletic Club per concludere Bilbao, sarebbe il Bilbao Io punterei al massimo un pareggio e con le altre devi provare a vincere Perché se tu fai 5 vittorie, 2 pareggi e una sconfitta Secondo me, secondo me con 17 punti Non credo, cioè non dico che sei al limite Però comunque secondo me ce la puoi tranquillamente fare Per arrivare alla cosa E niente, comunque quello che posso dire è questo Insomma, quindi la Roma ce la potrebbe fare Ma deve ricominciare a giocare come sta Per quanto riguarda invece la Lazio ha beccato il porto L'Ajax, Alenso Edad, Braga, Ludo Goretz Dinamo Kiev, Mizza e Tuente Vabbè, pure loro hanno beccato l'unica che abbiamo in comune No, le uniche due sono Dinamo Kiev e Braga La Lazio è andata un po' meglio Diciamo che a parte il porto Però l'Ajax è ricostruzione Però pure la Lazio, bisogna vedere L'Ajax è sempre tosta Braga è tosta Ludo Goretz non da non sottovalutare Dinamo Kiev, vabbè, ce la possono fare Nizza da non sottovalutare E Tuente, quindi Comunque loro, secondo me Con Tuente, Dinamo Kiev, Ludo Goretz Queste tre almeno vincono, sicuro Poi bisogna vedere l'Ajax come sta messo Potrebbe fare una quarta vittoria Con Porto, secondo me, perdono Le altre città, Braga e Nizza se la giocano Quindi è un po' da vedere Diciamo, loro è andata più equilibrata come cosa Noi invece abbiamo tipo Superforte Come può essere appunto il Tottenham Atletic Bilbao Toe One Invece loro hanno a parte Tipo due o tre Sono più o meno tutte Lì su quel livello E quindi per la Lazio Cioè per la Lazio Per quanto Può essere Può essere Più top Cioè Potrebbe essere da una parte Più semplice Per via del fatto Che comunque sia Magari tu dici Non hai Cioè non hai quella super top Ok il Porto però Bisogna vedere Perché comunque ha dato via con SESA O qualche giocatore Bisogna vedere E le altre alla fine Sono tutte più o meno Su stesso livello Quindi l'altra se la può giocare Forse è un po' meglio Quella dell'anno scorso Quella che è arrivata seconda Però potrebbe giocarsi tranquillamente Invece a Roma c'è tipo Che sono Atletic Club Bilbao E sia del Club Bilbao Eintracht E Tottenham Che sono tipo Sopra un livello E poi tutte le altre sotto Quindi Poi da vedere Però la Roma si trasforma Con un gioco in Europa Quindi Per questo Per questo io vedrei meglio La Roma Della Lazio Sono due squadre Che comunque Possono puntare Almeno Almeno agli spareggi Devono puntare Tutte e due La Roma spererei Che arriva almeno Cioè che arriva Già subito agli ottavi Perché converrebbe Per Cioè avere un turno in meno Visto che tutti gli ultimi anni Ne abbiamo sempre fatto Sempre fatto Quel turno in più E Sperare che vada tutto bene Insomma E Vediamo un po' Gli ultimi colpi Che stanno arrivando Domani Domani O comunque Massimo lunedì Vi faccio avere il video Con il mio pensiero sul mercato Questo è quello che penso Vedete vedere cosa ne pensate Comunque a sperare di iscrivervi C'è un prossimo video Sempre 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 Forza Roma Tagli